Ciao, sono Pietro Maddaluno, il nostro sponsor è Fly Emirates. Buona maverso a tutti! Ciao, sono Marcello Cincini, il nostro sponsor è Atti Europe, contabilità e consulenza di impresa, di Giuseppe Mantuno. Atti Europe, sito in via Ferrante in Palato, 182, Napoli. Atti Europe, sito in via Ferrante in Palato, 182, Napoli. Atti Europe, sito in via Ferrante in Palato, 182, Napoli. Atti Europe, sito in via Ferrante. Psychoco, sito in via Ferrante. Atti Europe, sito in via Ferrante in Palato, 182,�i wertsGB XIX sottotit口. Scenzi Europe, sito in via Ferrante. Musique Marche Jamdel A quoi servono tutte queste frontiere? Si ce n'est que per cacere le misere A quoi rispondre la nostra terre? Alors qu'on est tous frères Tous frères! On devrait tous avoir le droit D'être autre chose que d'être un On devrait pas penser qu'à soir Mais pour demain Ça c'est ça ya Ça c'est ça ya La 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 Grazie per la visione!